Abbiamo deciso, non sarebbe compito della Regione, ma per dare una mano, abbiamo deciso di stanziare un bonus di 3.000 euro per gli edifici scolastici perché si dotino di termoscanner, di misuratore di temperatura. Noi abbiamo già una disponibilità di misuratori termoscanner a pistola, per intenderci. Daremo la possibilità ai dirigenti scolastici di acquistare i termoscanner, quelli con la telecamera, per non perdere tempo per evitare assembramenti degli alunni. I presidi, i dirigenti possono acquistarli sulla piattaforma MEPA, quindi facciamo prima. Da lunedì è attiva una piattaforma regionale sulla quale i dirigenti scolastici possono segnalare l'esigenza che hanno, il numero di alunni, il numero di pressi scolastici. La Regione stanzia 3.000 euro per ognuna di queste richieste, euro da destinare al controllo della temperatura, quindi ai termoscanner. Cercheremo quindi di dare una mano in maniera tale che in questi giorni che ci separano all'apertura ci possa essere un controllo della temperatura degli alunni negli edifici scolastici. Grazie. 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 Grazie.